ehi la ciurma io sono mazzates e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di magic duels origins questo episodio è doppiato quindi io sto commentando quello che è successo nella partita in cui finalmente sono riuscito a sconfiggere questo terribile cioè questo complessissima partita inizialmente in questa registrazione appunto ho beccato dei mazzi cioè delle carte proprio schifose quindi ho ricominciato e niente quindi nulla di nulla nulla di fatto ora appunto ricomincio nuovamente la partita questa deve essere la volta buona credo bisogna avere davvero tanta fortuna perché ci ho provato a un'altra quattro cinque volte dopo quello che ho registrato e oltre alle altre sei volte che avevo provato prima questo è un mazzo discreto ma non ho la maledizione della sfinge che è quello che mi serve qui trovo la tutela della sfinge ma non ho molte isole però preferisco mantenere la mano e qui incomincio con solo due isole ma con la maledizione della sfinge che mi garantisce di avere una possibilità di vittoria perché se non pesco subito la maledizione della sfinge rischio di la tutela della sfinge rischio di non riuscire a fargli terminare in tempo il il mazzo ma non sono ancora sicuro se questa è la parte cioè la battaglia in cui riesco ad averla meglio perché lui appunto gioca subito delle creature e io non ho mana al momento quindi non so quanto posso giocare arrivo ad avere tre di mana e gioco la tutela della sfinge salto naturalmente l'attacco perché non ho nessuna creatura con cui attaccare tocca all'avversario l'avversario gioca un'altra palude e attacca con il suo la sua creatura due due quindi ricevo due danni ma però non è una situazione critica fintanto che non gioca delle creature grandi non è un problema gioco un altro cadavere e in questo momento ci troviamo in una situazione di abbastanza netto svantaggio facciamo scartare due carte e però abbiamo un'isola in mano che ci permette di giocare qualcosa di più quindi decido di giocare un fantasma cieco se non ricordo male per il fatto che è un 2 3 quindi può sopravvivere ad un attacco del cadavere ambulante esatto no forse questa è la partita che va la partita che va uno spoiler però e vi avevo detto che avrei registrato e caricato poi solo l'episodio doppiato della partita andata bene scavatombe sì 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 deve essere quella adesso ripesca un goblin sì goblin mi pare che si chiami quella carta ah no teppisti del crepuscolo però boh mi ricorda tanto un goblin gli faccio scartare altre carte ma come potete vedere ha scartato soltanto due carte sia prima che adesso adesso gioco un guerriero fantasma se non sbaglio e mi tengo il mago separatista per fargli ritornare in mano delle carte più sostanziali per la fin fine come potremo vedere in seguito non servirà a niente perché lo svuota magia e separatista non mago separatista svuota magia e separatista non verrà utilizzata la sua abilità ora come ora lui gioca i teppisti del crepuscolo ma non può ancora non attacca non attaccato questo giro perché era in una situazione di leggero svantaggio scarta ancora soltanto due carte grazie alla mia sfinge ma solo due non di più a sto punto gioco il guerriero fantasma ma faccio attenzione di tenermi del mana sufficiente per utilizzare l'istantaneo invertire il flusso che nello scorso episodio ho bruciato totalmente per quando lui mi attaccherà perché in questo modo posso tutelare le mie creature dall'attacco di quelle avversarie infligendo soltanto danni senza rimetterci le mie creature infatti lui adesso attaccherà con tutto e io grazie alla mia invertire il flusso tra l'altro ho bloccato il timer al però riporto tutti a una situazione di danno quasi nullo riesco a uccidere quindi tre creature senza perderne nessuna e mi ritengo molto soddisfatto perché in questo modo ho una situazione di netto vantaggio e in più non ricevo neanche danni perché l'unico danno che poteva infliggere quello dei teppisti del crepuscolo lo riceve appunto il fantasma cieco e quindi non perdo altri punti rimane un cadavere ambulante in campo e mi sento molto protetto ma a questo punto gioca mutilare e quindi tutte le creature perdono 6 6 e quindi mi lui perde il suo cadavere ambulante ma non è grave io perdo tutto e questa è una situazione molto brutta mi sono trovato davvero messo male a questo punto ma sono riuscito a temporeggiare un po ho giocato lo svuota magie separatista e a questo punto per fortuna lui ha un mazzo che ha già 11 carte in meno del mio 12 adesso e quindi sta diminuendo pian pianino ne abbiamo ancora parecchio da fare e a questo punto gioca i gaul e qua inizia a sudare un po freddo perché la situazione è molto delicata se io a questo punto stavo sperando caldamente di pescare un'altra tutela della sfinge perché pescando un'altra tutela della sfinge l'abilità si raddoppia utilizzo l'abilità della tutela della sfinge che permette di pescare una carta scartandone un'altra ho pescato un'isola ho scartato quella carta là perché non è particolarmente utile contro questo avversario e anche perché utilizza solo istantanei l'unica magia che ha è lo scavatombe lo scavatombe può essere counterato o scoperto da quella carta là ma preferivo tenermi un'isola in più anche perché avere tante isole in questo momento mi significava puoi pescare più carte e se puoi pescare più carte lui può scartare più carte ora siamo ancora più in netto svantaggio perché perché lui ha pescato un'altra carta che può giocare una creatura 3 2 e una creatura 5 3 quindi la situazione non è per nulla buona gioco un'isola e attivo di nuova abilità sperando di pescare qualcosa di utile effettivamente è quello che trovo un fantasma cieco che posso utilizzare in seguito per difendermi ulteriormente sono tutte creature che andranno poi sacrificate in un modo o nell'altro però sappiamo che qua la tattica l'unica possibile tattica con questo mazzo contro quel mazzo avversario è quello di temporeggiare cercare di sopravvivere il più possibile a questo punto sacrifico lo svuota maggi separatista contro il suo 3 2 la sua creatura 3 2 e ricevo 5 danni e inizio temere abbastanza perché mi rimangono solo più 8 punti vital che vuol dire se che se riesce a infliggermi altri due attacchi con quei gaul sono fregato a questo punto decido di giocare prima l'abilità della tutela della sfinge prima di usare il fantasma per decidere che cosa mantenere poi mi trovo un altro fantasma cieco quindi va bene scarto uno dei due e però a questo punto riesco a fargli scartare sei carte addirittura sei carte e questo mi porta in una situazione davvero ottima perché gli restano solo più cinque carte o un inoltre un fantasma cieco che potrei sacrificare in futuro per tutelarmi a questo punto lui attacca ma decido di non sacrificare ancora il fantasma cieco per utilizzarlo in un secondo momento il turno successivo molto probabilmente però a questo punto come potete vedere a lui restano soltanto più quattro carte nel mazzo gioca i teppisti del crepuscolo il che vuol dire che se non chiudo in questo turno ho perso però con la tutela della sfinge riesco a fargli scartare due carte ora avendo mana sufficiente utilizzo l'abilità della tutela della sfinge credo sì esatto pesco una carta e pesco un'isola se non sbaglio faccio scarto la carta eliminare ma a questo punto faccio scartare a all'avversario le ultime due carte rimanenti gioco l'isola ma a questo punto vabbè salto l'attacco perché non ha alcun senso e a questo punto i separatisti trovian vengono sconfitti assolutamente perché si ritrovano con zero carte e finalmente dopo una dozzina di partite sono riuscito a completare questa parte della campagna vinciamo anche un achievement per il fatto di aver sconfitto un avversario facendogli finire tutte le carte i rivoli sono combatte guerriti ma non possono competere contro di te ma non è vero sbaragli le loro difese capisci il luogo in cui è previsto l'attacco dalla mente di uno stratega e torni dal hammaret per rivelare le informazioni scoperte in realtà non è che non possono competere contro di te è perché noi abbiamo potuto riprovare un sacco di volte fosse stato nella realtà avremmo perso e buono conoscere i piani di una fazione non è sufficiente per poter essere in parziale nel suo ruolo di giudice al hammaret necessita di informazioni da entrambe le parti coinvolte quindi ti invia nuovamente in missione incontri più truppe del previsto qualcuno di importante deve visitare l'accampamento questo rende la sfida più impegnativa la potenziale ricompensa più pagante questo sarà l'episodio prossimo io per questo video vi ringrazio per la visione vi invito lasciare un mi piace ci vediamo alla prossima ciao a tutti